Porti del Nord Africa, quelli che ci dovrebbero in qualche modo preoccupare sul lato della competitività e non quelli del Nord Europa. Il Mediterraneo è tornato al centro delle attenzioni e questo vuol dire grandi opportunità per tutti, ma le grandi opportunità si sfruttano se le condizioni di partenza sono le stesse. Per cui mentre il Nord Europa ha delle logiche di concorrenza e di competitività ormai equilibrate, il Mediterraneo ha bisogno in qualche modo di trovare dei punti di equilibrio per avere tutte le stesse opportunità ma anche tutti gli stessi vincoli. Il Nord Europa ha delle regole, il Mediterraneo ne ha altre. Io direi che in questa grande opportunità è evidente che i paesi del Nord Africa diventano un'opportunità, diventano correnti, ma in qualsiasi concorrenza esistono norme che devono essere per tutti le stesse. Perché questa opportunità grande, questa possibilità grande di sfruttare il Mediterraneo al centro degli interessi ormai globali dell'economia non va dispersa e non va sfruttata in maniera furba. Secondo lei l'Italia saprà sfruttare la sua posizione proprio al centro, sia guardando lato est-ovest che il nord-sud? Mi sembra che ci sia grande movimento, il governo sta oggettivamente lavorando molto su questi temi e ha preso consapevolezza forte che la opportunità italiana in quest'ambito, il Mediterraneo e l'Italia per sua vocazione geografica possono veramente fare tanto e fare bene. Non dimentichiamo che la piattaforma è una piattaforma logistica, facciamo parte integrante dell'economia della logistica moderna, siamo uno snodo anche come portualità della logistica moderna. E queste sono situazioni che non possono essere dimenticate come una cosa alla quale tengo particolarmente, il Made in Italy è il terzo brand più conosciuto al mondo. Il primo è Coca-Cola, il secondo Visa, il terzo è Made in Italy. Non possiamo non partire da queste realtà, io arrivo dall'impresa per cui devi analizzare il quadro competitivo, non possiamo non partire da questa realtà e da questa consapevolezza per fare delle strategie che oggettivamente vedo affrontate con grande attenzione da questo governo, dal ministro Salvini e dal viceministro Rixi che sono veramente sul pezzo. Grazie 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 Grazie